Sei in assoluto la mia migliore amica di sempre. Domani puoi venire a scuola con noi. Su serio? Davvero? Può venire? Sarà silenziosa come una nubola. Non devi farti vedere qui, Olga. Nina, comincia tu. Che vedete di questo ritmo? Sì, mi sento come una gelatina trevolante. Yeah! Sì, nooo! Wow!